Sociologia, religione, politica, tutte cose interessanti che ho trattato sul mio canale, ma oggi vi parlo di granchi. Sì, perché la notizia del giorno è la seguente. Licia Colò entra in un supermercato, vede dei granchi vivi in vendita dentro delle vaschette e decide di denunciare la cosa con una diretta su Facebook. E fin qui la cosa ci sta. I crostacei, quando non sono surgelati, vanno venduti vivi, per questo in pescheria hanno gli acquari. Se vengono confezionati e muoiono dentro la vaschetta per mancanza di ossigeno, si decompongono molto velocemente e, oltre a non essere più buoni da mangiare, sono anche pericolosi per una questione di sicurezza alimentare. Ma, naturalmente, non è questo il ragionamento dietro la sua denuncia. La Colò compra tutte le vaschette per andare poi fino al mare a liberarli. Io mi chiedo come faccio una persona che ha condotto per anni e anni una trasmissione di documentari sulla natura, a non capire che inserire delle specie all'octone provenienti da una zona A in un ecosistema B è sbagliatissimo. Ci sono, purtroppo, moltissimi esempi di come questo in passato abbia causato danni ambientali enormi. E, anche se quei granchi fossero autoctoni, è comunque vietato il lascio nell'ambiente di esemplari provenienti da allevamenti, per precise norme di profilassi. È buonsenso! E io ve ne sto parlando perché letteralmente tutti i giornali si stanno buttando a capofitto in questa battaglia ideologica pseudo buonista, animalista, senza senso. Premetto che io sono il primo ad odiare i maltrattamenti gratuiti sugli animali. Anche quando ero bambino i miei genitori mi avevano educato facendomi capire che è sbagliato a far del male ai granchi sugli scogli per divertimento. Ma qua stiamo parlando di granchi destinati ad uso alimentare, dentro un supermercato. Sto leggendo dei titoli da strapparsi gli occhi. La Repubblica scrive un piccolo gesto di resistenza. Ma resistenza di cosa? Per me un esempio di resistenza sono i kurdi che combattono l'isis, non lì c'ha colo che libera quattro granchi in mare. E questo episodio è solo un esempio di come in Occidente il benessere, il non doversi più preoccupare di procacciarsi il cibo, ha fatto perdere la concezione della realtà a tante persone che si commuovono per un video di granchi dentro una vaschetta, vorrei però vedere se hanno la stessa pietà quando si ritrovano uno scarafaggio in cucina, e si dimenticano che forse, forse, i problemi dell'umanità sono altri.